Non potevo trovare un angolo più bello, il simbolo della primavera, un albero che fiorisce per descrivere quello che in questo momento stiamo vivendo. Stiamo vivendo un brutto momento, abbiamo bisogno di mascherine per autoproteggerci, abbiamo bisogno dei vari indumenti, per l'autoprotezione dei volontari e ci servono soldi. In questo momento i soldi stanno finendo, quindi avrà bisogno di un aiuto da parte di tutti voi per poter andare avanti, per potervi aiutare, per dare la possibilità ai volontari di potersi difendere da questo virus che ci sta attalare e per ritornare a fiorire come sta rifiorendo quest'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.